Musica Ben ritrovati gentili telespettatori ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo ancora con gli aggiornamenti sulla pandemia. La zona bianca resiste in tutte le regioni, tra l'altro con l'indice Rettin Italia in calo ad 1,1. E' costantemente un'alternanza di notizie più o meno rassicuranti, anche se dobbiamo registrare nelle Marche un nuovo decesso. Ha perso la vita con il Covid, infatti un 65enne di offida con patologie pregresse, con il totale dei morti arrivato a 3.044. Di contro, nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi contagiati è calato a 156, pur con il tasso di incidenza accumulativo su 100.000 abitanti più o meno stabile a quota 73,13. Il maggior numero dei nuovi casi stavolta è in provincia di Ancona con 41, Pesaro Urbino ne ha registrati 35, Fermo 30, Macerata 29 ed Ascoli Piceno 10. I ricoverati salgono di 4 unità e passano a 58, mentre invariato il dato dei degenti nelle terapie intensive, che erano e restano 9. Si delinea ormai in maniera sempre più chiara la necessità della terza dose di vaccino a partire dal prossimo autunno, probabilmente da ottobre, dando precedenza assoluta ovviamente alle persone più fragili, come pazienti oncologici in chemioterapia o coloro che hanno di recente subito un trapianto. Il problema sono ancora gli oltre 59.000 over 60 non vaccinati, una cifra comunque molto alta per una piccola regione come la nostra. I marchigiani sembrano comunque aver fatto l'abitudine al Green Pass e quanto emerge dal servizio realizzato da Roberto Rotelli in alcuni esercizi pubblici di Osimo. Vediamo. A due settimane dall'introduzione del Green Pass obbligatorio all'interno di bar e ristoranti, i ristoratori sono soddisfatti di come sta andando il lavoro. Gli effetti di questo decreto saranno sicuramente più visibili a partire dall'autunno, quando le attività commerciali non potranno usufruire dei tavoli all'esterno ed i clienti dovranno accomodarsi solo al chiuso. Per il momento il lavoro sembra procedere bene ad Osimo, nonostante molte persone sembrino ancora scettiche sull'effettivo valore aggiunto della misura preventiva del Green Pass obbligatorio. Lungo il corso principale non mancano turisti e vacanzieri che popolano i locali in cerca di refrigerio e svago. Ma per l'idea che sì, c'è stato movimento anche di turismo, ci sono stati diversi turisti, però anche loro sono tutti, diciamo anche quando arrivano ci fanno vedere sempre il Green Pass, insomma anche chi si deve sedere, non ci sono stati grandi problemi ecco, a livello di anche come gestire la situazione, ci siamo trovati tranquilli. Un po' di turismo c'è stato, quindi meglio così. I clienti che cosa dicono di questo Green Pass? Sono favorevoli oppure no? Ma qualcuno, sì, magari c'è chi non la vede come una cosa corretta, però diciamo la minoranza, perlomeno qui da noi non ci sono state grandi clamorose cose, insomma ci siamo trovati abbastanza tranquilli, senza problemi. Nessuna differenza tra prima e adesso, perché comunque il Green Pass è rivolto al consumo interno, anche se pre-Covid avevamo diversi posti all'interno, con la bella stagione insomma non usiamo i tavoli interni. C'è paura che con l'arrivo dell'autunno e del freddo potrebbero esserci delle diminuzioni della clientela a causa dell'introduzione del Green Pass? Questo è prematuro dirlo e anche pensarlo, perché siamo ancora in piena stagione, quindi non saprei cosa rispondere. Sicuramente per quanto riguarda l'esterno abbiamo delle lampade riscaldanti, per quello che riguarda la parte qui in Corso Mazzini, e credo che andremo avanti così. I clienti che cosa pensano dell'introduzione del Green Pass? Guardi, sorprendentemente, a rispetto delle ipotesi che si potevano fare prima dell'introduzione, non se ne parla. Quelle due volte che è servito abbiamo chiesto cosa che è stato gentilmente mostrato, non è che se ne parla come argomento di dialogo, di discussione. Allora, noi ancora una grossa differenza, grossi problemi non li abbiamo visti, perché lavoriamo soprattutto con l'esterno. Vedremo adesso da ottobre, novembre, quello che sarà poi con il discorso dell'autunno. Sicuramente qualche piccolo problema ci sarà, però speriamo bene, speriamo. I clienti sono scettici a riguardo del Green Pass, oppure c'è stata accoglienza di questo nuovo decreto? No, diciamo che una maggior parte sono tutti scettici, sicuramente sì. E poi noi che dobbiamo fare i controlli, qualcuno dice, ma chi sei tu per chiedermi il controllo del Green Pass? Purtroppo però lo dobbiamo fare, quindi è così. Quindi, secondo lei, il tipo di lavoro che fate dovrà cambiare? Sicuramente sì, dovremmo diventare anche dei controllori. E siamo alla cronaca, un disoccupato 49 anni italiano è stato tratto in arresto dai poliziotti della squadra mobile di Ancona per spaccio di sostanze stupefacenti. È stato trovato in possesso di circa un etto di eroina pronta per essere venduta al dettaglio ed altra ancora in ovuli da confezionare. Il pusher è stato fermato nella tarda mattinata proprio all'uscita della sua abitazione mentre iniziava la sua attività illecita. Rinvenute durante la perquisizione anche diverse boccette di metadone. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a San Lazzaro di Fossombrone per recuperare una persona caduta in un dirupo. Sul posto la squadra di pompieri ha prestato le prime cure in collaborazione con il personale sanitario intervenuto con l'eliambulanza. È stato infatti disposto il trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Tamponamento a catena oggi in via Marco Pola d'Ossimo. Fortunatamente nessun ferito ma gravi conseguenze alla circolazione con forti disagi. Un autobus di linea con sei passeggeri a bordo ha urtato un camper condotto da una 43enne della provincia di Macerata che a sua volta ha tamponato un'autovettura. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della polizia locale. Dopo qualche ora il traffico è ripreso regolarmente. Nelle due settimane a cavallo del Ferragosto sono stati intensificati i controlli della Guardia di Finanza di Macerata lungo il litorale. Sentiamo cosa è emerso nel servizio di Manolita Scocco. Civitanova Marche, Porto Recanati e Potenza Picena sono state particolarmente attenzionate nel periodo ferragostano dalla Guardia di Finanza che ha intensificato i controlli specialmente nelle zone della cosiddetta Movida. 42 le pattuglie impiegate con l'ausilio anche di due unità cinofile. Ai fini del contrasto all'abusivismo commerciale sono stati eseguiti sette interventi con il sequestro amministrativo di 3.500 articoli e la segnalazione ai sindaci competenti di sette soggetti per avere esercitato l'attività di commercio al minuto in forma ambulante e senza le previste autorizzazioni. Per quanto riguarda il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti o non sicuri, sono stati sequestrati 1.800 articoli con la conseguente denuncia a piede libero di due soggetti e la segnalazione alla competente camera di commercio di tre responsabili. Le attività esperite hanno consentito altresì il sequestro di diverse tipologie di sostanze stupefacenti con la denuncia a piede libero di un soggetto e la segnalazione alla prefettura di due consumatori. Cambiamo ora decisamente argomento. Le Marche sono presenti come main partner alla decima edizione della Savoia Cappe del premio sportivo letterario Scogliattolo d'Oro appuntamento di sport, spettacolo e cultura che si sta svolgendo a Cortina d'Ampezzo. Una bella vetrina per mettere in mostra le nostre eccellenze ha detto l'assessore allo sport Giorgia Latini. La nostra regione ha potuto scegliere questo palcoscenico per promuovere il proprio territorio con le sue ricchezze. Un mix di eventi sportivi, cultura e turismo con ampio spazio riservato all'enogastronomia. Partiranno all'alba di domani a Fano dai capannoni del ponte Metauro per posizionarsi nel lungomare Sassonia i carri allegorici protagonisti del Carnevale e Estatico. Ruoteranno infatti intorno alle grandi opere dei maestri carristi tutti gli spettacoli programmati per questa edizione estiva della manifestazione più importante di questo genere in regione. L'inaugurazione in programma sabato alle 21 all'Anfiteatro Rastat sui versi di Dante a cui è stata dedicata l'edizione estiva ed anche quella invernale digitale. Il Rossini Opera Festival si chiuderà domenica in Piazza del Popolo a Pesaro alle 20.30 con il Gala Rossini che celebra il 25esimo anniversario del debutto pesarese di Juan Diego Flores che appena 23enne interpretò nel 1996 il ruolo di Corradino in Matilde di Chabran. Al concerto, come abbiamo più volte anticipato assisterà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Michele Spotti dirigerà l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai ed il Coro del Teatro Ventidio Basso nel programma Brani della Cenerentola, Semiramide, La Donna del Lago, L'Italiano in Algeri, Il Viaggio a Rems e Guglielmo Tell. Loreto, lo abbiamo già detto, nelle scorse edizioni del nostro telegiornale si propone come corridoio umanitario per i profughi in fuga dal dramma dell'Afghanistan. Sentiamo l'intervista con il Sindaco Moreno Pironi. Questa è stata un'idea che nasce dalla realtà che è proprio Loreto, è la città dove c'è il più grande santuario mariano al mondo e soprattutto è la città dell'accoglienza della solidità per antonomasia in Italia. E allora questa proposta che noi abbiamo fatto, che si è concretizzata proprio ieri mattina con l'invio di una comunicazione ufficiale sia alla Presidenza del Consiglio, al Ministro degli Esteri, al Ministro degli Interni e naturalmente al Prefetto di Ancona, dove noi mettiamo a disposizione la città di Loreto e alcuni spazi della città di Loreto per ospitare in particolar modo donne e bambini, perché sappiamo bene quanto sarà difficile per loro l'esistenza una volta, come dico sempre io, tolti, chiusi i riflettori di questi giorni ed in particolar modo per coloro che hanno collaborato con il nostro contingente italiano in Afghanistan. Allora, ecco, questa idea che si sta concretizzando, stiamo prendendo contatti con la Prefettura, naturalmente cercando insieme, sia noi con il Ministero degli Interni che con la Prefettura, di capire quanta ospitalità può dare Loreto, nel senso che l'obiettivo è quello di avere alcune realtà, donne e bambini, ripeto, che possono essere ospitati con dignità dalla città di Loreto. Quindi parliamo di un numero, diciamo, contenuto e siamo pronti veramente a lanciare questo messaggio che è un messaggio che parte dalla città ma che vuol coinvolgere veramente tutta la nazione perché io sono sempre più convinto che seppur in queste giornate dove giustamente noi tutti siamo in vacanza però dobbiamo sapere anche che c'è un popolo e ci sono delle donne e dei bambini che rischiano veramente la vita o la schiavitù. Loreto, città aperta? Loreto, città dell'accoglienza a prescindere dal credo religioso? Beh, questo naturalmente sì. Io che sono un cattolico come giustamente tantissime altre persone come la realtà di Loreto proprio per questo vuole dimostrare che è una città aperta, accogliente nel rispetto naturalmente dei loretani ma anche con la consapevolezza che daremo veramente un bel messaggio daremo anche la possibilità di vivere a queste persone che l'anno l'avrebbero. Per dare accoglienza e riparo a questi profughi c'è bisogno dell'aiuto di tutto il territorio e di tutti gli enti che comunque saranno partecipi a questo progetto? Beh, anche questo è vero. Ad oggi è un'idea che è partita da me come sindaco ma che per concretizzarla dovremmo avere naturalmente come dire una condivisione totale. Loreto ha una grande vivacità legata all'associazionismo proprio per la sua peculiarità quindi sono certo che una volta che le coinvolgeremo queste associazioni daranno la giusta risposta ma è altrettanto vero che coinvolgerò proprio perché credo che deve essere un'azione condivisa da tutti tutti i gruppi consigliari di maggioranza e di opposizione presenti nella nostra città e naturalmente per primo terrò gli stretti contatti con il delegato pontificio che è il Vescovo dal CIN perché credo che insieme possiamo veramente far capire quanto Loreto sia accogliente e solidale. Ecco, il tutto avverrà quando avremo un pochettino più di concretezza e di risposte da parte del Ministero e della Prefettura. Loreto già nel 2016 era stata città dell'accoglienza per i profughi cossovari albanesi che venivano dalla comunità di Tolentino. È vero, è vero. Anche all'epoca Loreto diede un ulteriore messaggio in particolar modo in questo caso alle popolazioni marchigiane che avevano vissuto questo drammatico sisma che aveva coinvolto veramente più di 20.000 persone distrutto quasi un territorio montano e allora avere ospitato queste realtà che ormai si erano integrate nel nostro territorio, in quel caso a Tolentino, è stato un messaggio di ulteriore non solo disponibilità di accoglienza ma anche di collaborazione per delle famiglie che non erano italiane anche se poi erano ormai stabili qui nel nostro territorio. Quindi Loreto prosegue in quel percorso di accoglienza e solidarietà. E siamo allo sport, vigilia dunque dell'esordio dell'Ascoli Calcio che domenica sera allo Stadio del Duca inizierà il suo 25esimo campionato di Serie B affrontando il Cosenza guidato da mister Marco Zaffaroni ed appena ripescato dopo la retrocessione della stagione scorsa. Ovviamente c'è grandissima curiosità attorno alla compagine di Andrea Sottili, Cadudine in Coppa Italia, ha alternato luce ed ombre. Domani pomeriggio la rifinitura. Nel mondo San Benedettese invece dove i colpi di scena sono all'ordine del giorno sarà quindi Manolo Bucci a gestire la ripartenza dalla Serie D con la collaborazione esterna ovviamente di Claudio Lotito, patron della Lazio e della Salernitana. L'imprenditore romano Roberto Renzi però non si arrende. Dopo le ripetute esclusioni ricorrerà all'ultimo grado della giustizia amministrativa al Consiglio di Stato chiedendo in subordine anche la concessione del massimo torneo dilettantistico. Contestualmente è partita la diffida verso l'amministrazione comunale e la Federcalcio. Facciamo un break ora con il basket. È iniziata la preparazione della Carpegna Prosciutto Pesero. Alla prima squadra sono stati aggregati i giovani Edin Mujakovic, Umberto Stazonelli, Mamadudia, oltre a Lorenzo Calvini e Nicolas Alessandrini. Camilla Cataldo ha intervistato per noi due colonne della VL, Ario Costa e Walter Magnifico. Sentiamo. Presidente Ario Costa, si riparte con un'altra grande stagione per la Carpegna Prosciutto. È stato molto importante ripartire intanto da quattro giocatori dell'anno scorso. Sicuramente è un punto di partenza molto importante avere quattro giocatori molto importanti della stagione scorsa che ci hanno riconfermato le loro prestazioni. Non avevamo dubbi, siamo stati molto contenti di questo e da lì abbiamo completato il roster. Dopo vari stati di corteggiamento sei riuscito a portare a Pesero, anzi a riportare a Zapetrovic. Che cosa rappresenta per te e cosa per la piazza? Quello che rappresenta per me lo tengo dentro di me. Credo che sia un professionista importantissimo nella nostra società, un attore che ha navigato tutto il mondo, si può dire. Grande esperienza, grande carattere, grande carisma. Quindi sono molto felice che Asa sia qua con noi e credo che ci farà innamorare della sua pallacanestro. Il roster è un mix di gioventù ed esperienza, manca solo un giocatore. Quanto siete vicini al pivot? Non sia né vicini né lontani, stiamo cercando, stiamo aspettando, valutando e considerando tante cose che al momento chiaramente sono ancora tutta da finire perché la disponibilità dei giocatori non l'abbiamo ancora avuta. L'obiettivo di quest'annata, coach Petrovic, vorrebbe i play-off e l'Europa? L'obiettivo è di fare una stagione tranquilla, cercando di mettere alle spalle innanzitutto prima due squadre e poi tutto quello che farà a faremo felici. Ma ripeto, una stagione tranquilla. Con il 35% di persone che possono entrare al Palace avreste 3.500 persone, un buon numero, aprirete la campagna abbonamenti? Sei stata troppo semplice, non è così semplice. Bisogna fare tante valutazioni, c'è il distanziamento, c'è l'omologa. Insomma, sicuramente un po' di pubblico ci potrà essere. La campagna abbonamenti non lo so ancora cosa decideremo di fare, anche se chiaramente i tempi stanno stringendo. Walter Magnifico, dirigente Biancorosso, quest'anno 10 giocatori, 10, siete coperti veramente in tutti i ruoli? Sì, direi proprio di sì. La squadra è stata costruita, manca l'ultimo tassello, ma è stata costruita molto bene, dove c'è un mix di gioventù che ha grande energia e entusiasmo per potersi affermare, sia il nostro problema che è il Paceco, che Davide Moretti, che viene da un anno praticamente dove ha giocato pochissimo, quindi hanno una gran voglia di fare. Poi c'è la garanzia e la sicurezza del nostro capitano Carlos, quindi direi che abbiamo dato un po' più di fisicità sotto canestro con l'arrivo di questo ragazzo Camara, che è un cambio che sicuramente darà sostanza alla squadra. Ci ancoriamo alle certezze di Tambone e di Zanotti. Il terzo anno di Drell io sono sicuro che sarà un anno estremamente positivo, quindi siamo veramente a buon punto. C'è entusiasmo, c'è entusiasmo in primis del nostro allenatore Asa, quindi partiamo bene. Anche quest'anno ritiro prima a Carpegne e poi a Borgopaccio. Mancheranno tre giocatori, Davide Moretti alle prese con il Covid, Camara comincia con la Virtus Bologna e poi il pivot che avrà quali caratteristiche? Beh, caratteristiche, deve essere un giocatore comunque dinamico, che permette alla squadra di muoversi in maniera rapida, una certa esplosività, una forza anche dentro l'area, che deve dare garanzie di avere muscoli e forza dentro l'area come rimbalzo, anche come pericolosità offensiva, ma credo che questo è un discorso che tocca un po' tutta la squadra. Noi abbiamo tanti giocatori che possono diventare protagonisti di partita in partita, quindi il gioco di squadra è chiaro che è fondamentale, a cominciare dall'aspetto difensivo. Ancora calcio perché parte anche la Coppa Italia di Serie C con il primo turno, domani alle 18 esordial del Conero dell'Ancona Matelica, che riceverà la neopromossa Aquila Montevarchi. Un banco di prova difficile, ha detto oggi in conferenza stampa mister Gianluca Colavitto, che ha anche annunciato che il neo capitano Biancorossa sarà Salvatore Papa, giocatore tra i più esperti in rosa. Alla stessa ora la Vispesero scenderà in campo contro il Modena, un test probante contro una delle compagini maggiormente accreditate del Girone e la fermana invece all'Artemio Franchi di Siena. Il 28 agosto, lo ricordiamo, il via al campionato, sempre domani, ma alle 17 allenamento congiunto al Tubaldi tra la Re Canatese e il Montefano. Vediamo ora le previsioni meteo per sabato 21 agosto. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Un campo di alta pressione nel corso di sabato interesserà l'Europa centro-meridionale con condizioni di stabilità anche se sui rilievi montuosi non mancherà qualche temporale di calore, alpi e dorsale appenninica. Andiamo al dettaglio quindi sull'Italia, giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi, sole protagonista e caldo moderato, lieve aumento delle temperature massime con valori diffusamente prossimi ai 33 gradi. Durante il poveriggio temporali di calore sulle alpi settentrionali e dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli precisi li trovate sull'app di Trevi Meteo. Martedì 24 alle 18.30 al Salone degli Stemmi il Comune di Castelfidardo conferirà un riconoscimento a Marina Adamo, Amazzone, neocampionessa italiana Brevetti ed Hermes Mercuri, vice campione italiano salto in alto Juniores. Saranno presenti anche Fabio Luna, presidente Conimarche ed i rispettivi presidenti delle squadre e delle federazioni regionali. Con questo è tutto per il nostro notiziario, vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi auguro un buon fine settimana.